Tell me something about yourself Sono il mio fascino, non so E pure bello E faccio i misti E pure al cielo Morari perché no, grazie E dici I wish I could focus I really missed a target Non mi ricordo niente Indichi subito la cosa che avete congato l'aereo Adesso Ma tu come fai a sapere queste cose? Adesso lo vedai Attenzione Battaglio Capissario Roberto Buongiorno 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 Roberto Giacomo Roberto Grazie Anderotti di essere venuto Ciao Pa Grazie Basta Giacomo Allora Che succede qui? Allora, che succede qui? Allora, che succede qui? Allora, che succede qui? Ti raccomando, portali bene oggi a scuola Quanto camminato Con gli occhi quasi chiusi e sono letto Tutto sembrava strane e niente sembrava a me Buongiorno 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 No Sì Cosa ti chiede a dire di Nick? Nick? Come here a second Do you know these guys? No, you two We are like Longlost brothers C'è una cosa? Cercavo casa mia Mi ha fermato la mano Ti ammettiamo? Si, ti apro il cofere Sta fermo Non ti giovere, sta fermo I was gonna be a dance A dance Cry What? Cry Cry Non mi evita come semplice danza Il tango è una cosa seria E' duro questo pallino, vedi un po' d'acqua. Forza salutate papà. Percorso chilometri di strada. I figli sono una scusa, non tirarli in ballo, quando 5 anni fa ci siamo sposati mi hai portato i vantari, mi hai promesso amore e assistenza per tutta la mia! E' un po' di scopo! E' un po' di scopo! Buon po' di scopo! E' un po' di scopo! E' un po' di scopo! Non so. E' un po' di scopo! Stagionate! 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 Qualla un'anità di insana! Penso che questo è tutto. Ma sai... Non abbiamo bisogno di fare questo. Non posso dire che potrei chiamarti. Certo. Più più di tutto. Ma magari è solo un personaggio di fantasia. Un amico immaginario, certo. Ho deciso di dare la vita. Partisi a tutti. No. Hai scopo a fare questo. Ero a fare questo. Ero a fare questo. Celebra! Con l'anno occhio e la vita. Ero a fare questo. Ero a fare questo. Ero a fare questo. è il momento di rimanere la vita per sempre cosa posso dire di lui? Sì! Sì!